Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, ispirami sempre ciò che devo pensare, ciò che devo dire e come devo dirlo, ciò che devo tacere, ciò che devo scrivere, come devo agire e ciò che devo fare, per cercare la Tua gloria, il bene delle anime e la mia santificazione. O Gesù, è in Te tutta la mia fiducia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, allora in questo celebre brano che leggeremo domenica prossima, dove Gesù si paragona alla vite, e quindi noi siamo conseguentemente ai tralci, vorrei riflettere su quattro aspetti che potremmo dire riguardano i discepoli. Questi aspetti sono la purificazione, l'idea di rimanere, la preghiera e la gloria di Dio. Ma veniamo al brano, al capitolo 15, versetti 1-8. In quel tempo Gesù disse, io sono la vite vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite? Così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me ed io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, vediamo quei quattro aspetti del discepolo come vi avevo accennato prima. Partiamo dal primo, la potatura o meglio appunto come dicevo la purificazione. È un'immagine agricola presente in moltissime culture. Gesù si identifica con la vita, con la vite scusate, e individua nell'agricoltore suo padre con la massione della potatura o meglio potremmo dire della purificazione. Fra i vari significati che ha questo verbo, dal punto di vista medico o sacrale, quello sacrale diciamo rende l'idea della purificazione. Attraverso la potatura, purificazione, si pulisce il ramo da ciò che è morto o malato. Quindi ovviamente non bisogna tradurre potare quando si parla poi dei discepoli, ma di purificare. Non a caso al versetto 3 dove c'è lo stesso verbo, non si dice dei discepoli voi siete potati, ma voi siete puri. È importante la potatura perché serve a togliere quelle cose che danno fastidio alla crescita, perché portano via energie. Questo è un tema molto importante dal punto di vista spirituale. Potremmo dire per la comunità giovanea, questo probabilmente va a sottolineare un momento di prova, di fragilità vissuto dalla comunità di Giovanni, che rilegge la propria esistenza alla luce delle parole del maestro. Nelle situazioni di crisi, di fallimento, che possono essere motivo di allontanamento dalla fede, se invece sono affrontate con la consapevolezza della fede, servono a consolidare e rafforzare il rapporto con Dio. Non a caso il verbo originale greco rimanda l'idea della purificazione, cioè un qualcosa che va a vantaggio dell'anima e dello spirito. Ci ricordiamo nel capitolo 2, dove si parla delle nozze di cane, c'è un grosso tema della purificazione che è legato al tema della gioia, alla gioia delle nozze messiane, potremmo dire. L'acqua delle giare che serviva per la purificazione dei giudei, concetto di purificazione, viene trasformata nel vino della gioia, nel vino della festa, nel vino del banchetto. Questo potremmo dire è vero anche per la nostra vita. Potarsi, purificarsi, sta a indicare una ripulitura dal punto di vista sia materiale delle cose che sono in eccesso nella nostra vita, ma perché no anche dal punto di vista caratteriale, una potatura, ripulitura di quelle cose che purtroppo ci impediscono di levarci verso Dio, verso i grandi valori dello spirito, ma ci tengono troppo a terra. Secondo aspetto per la vita dei discepoli, il rimanere. Gesù invita a rimanere con lui. Rimanete in me ed io in voi. Il verbo indica proprio questo stare, permanere in maniera costante con Gesù, altrimenti i tralci che non stanno con lui vengono buttati via e drammaticamente si seccano. Ancora più intensamente, potremmo dire, si inaridiscono. Il portare frutto non è semplicemente un discorso di fare opere buone, frutti di opere buone, ma noi sappiamo che l'opera principale nel Vangelo di Giovanni è proprio quella di credere in colui che egli ha mandato. Credere in Gesù Cristo, affidarsi a lui. Capitolo 6 del Vangelo al versetto 29. La relazione con Gesù è così vitale, potremmo dire, che essa stessa porta il discepolo non soltanto a fare la carità, ed è una cosa buona, non soltanto esercitare un servizio a vantaggio del prossimo, ed è una cosa buona, ma l'opera è credere, affidarsi, comunicare in tutto ciò che si è e si fa, la potenzialità che viene dalla novità di vita portata dal Cristo risorto. Terza dimensione importante per il discepolo, il senso della preghiera. Alla luce della purificazione del discepolo e conseguentemente al suo rimanere con Gesù si vede l'efficacia della preghiera. E non si tratta di chiedere quello che ci pare o quello che ci passa per la testa, si tratta di chiedere ciò che porta a un fine, a un obiettivo. Il verbo greco rende l'idea proprio di volere e avere l'intenzione proporsi al fine di raggiungere uno scopo. È collocato in una cosiddetta frase ipotetica, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, ecco le due condizioni, rimanere in Gesù e fare sì che le sue parole rimangano in noi e noi siamo già purificati dalla sua parola, versetto 3 l'abbiamo visto, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. Ovviamente non è chiedere il vostro ghiribizzo che vi passa per la testa, ma si tratta di chiedere e volere quello che è frutto di un cammino di rimanere con Gesù, di essere purificati dalla sua parola. Chi vive un rapporto esistenziale con Gesù potremmo dire interiorizza la sua parola e quindi formula una preghiera che non avrà semplicemente per contenuto desideri personali o bisogni importanti e sono previsti anche nel Padre Nostro, ci è chiesto di chiedere il pane quotidiano, non la salvezza dell'anima o la conversione, ci sono chieste altre cose, ma anche il pane quotidiano. La richiesta sarà quindi indirizzata, come dice il Padre Nostro nella prima parte, a Dio, fare la sua volontà, santificare il suo nome eccetera eccetera e poi dal punto di vista pratico le cose che ci servono affinché questa volontà di Dio, questa santificazione del nome di Dio possa essere attuata. Per arrivare al quarto punto, la glorificazione. La gloria di Dio è la meta del discepolo che non vive più per sé ma per lui. Mi concludeva alcune sue composizioni firmandole per la gloria di Dio e per la edificazione del prossimo. È una cosa molto importante, la vita del discepolo per la gloria di Dio e come edificazione, modello, esempio, sostegno dei fratelli e delle sorelle che Dio ci ha messo accanto. Questo significa che glorificare Dio non si tratta di fare alcune azioni religiose o almeno non semplicemente di fare alcune azioni religiose ma vivere la vita completamente orientati a Dio. Dio padre è glorificato nella ricerca di lui e della sua volontà, ciò che il discepolo ha invitato a desiderare quotidianamente. Dio non va glorificato attraverso manifestazioni di esoterismo, di sola spiritualità ma attraverso gesti quotidiani. Ce lo ricorda sempre l'Evangelista Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 5 ai versetti 2 e 3. In questo conosciamo di amare i figli di Dio quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Questa è la vita, diciamo, per la gloria di Dio. Dare gloria a Dio è testimoniare innanzitutto a noi stessi che la scelta di Dio è la scelta vincente perché porta alla vita vera ora e per l'eternità. Noi conseguentemente quindi vogliamo essere uniti e nella liturgia rivivere queste quattro proposte, queste quattro dimensioni come ci sono raccontate nel Vangelo secondo Giovanni che sono in qualche modo, diciamo, riassunte, non tutte e quattro ma come spirito di fondo, nella colletta di Domenica della Messa. O Dio che ci ha inseriti in Cristo come tralci nella vita vera, confermaci nel tuo spirito perché amandoci gli uni gli altri diventiamo primizie di una umanità nuova. Per Cristo nostro Signore. Amen.